Ciao! Oggi faremo un video bellissimo! Andre ci ha preparato un percorso difficilissimo da fare in verticale. Vediamo chi riuscirà a finire il percorso, però prima Andre ci fa vedere... Uh! Io cado! Anche l'albero di Natale, avete visto? Vediamo Andre! Salgo sulla pedana, scendo dalla pedana, giro intorno... no, passo attraverso all'appoggino, giro intorno all'albero, slalom tra i cubi, saliamo sullo step, scendiamo e attraversiamo ancora lo staggino, fantastico applauso, bravo Andre! E' troppo difficile? Ah, ok, pensavo che l'avessi fatto troppo difficile. Vediamo! Avete bisogno di fare qualche prova oppure partiamo? Buona la prima! Ok! 100 punti! La pedana potete scendere anche come quando facciamo le preparazioni in verticale, eh? Alberello, buon Natale! Ce l'ha quasi fatta, eh? Brava! Sulo step! Giù dello step! Passa! Bravissimo! Applauso! E' tanto difficile? E' fuori? Ah. E' fuori. Ok. Erika? L'ha in corso preso. Va bene. Erika, tu no o l'altra? Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Mi amore. Dai, dai. Dai, ora ora. E adesso? Dai, che ce l'hai quasi fatta, Eri? Dai, dai, Eri! Nooo, peccato! Aiuto! Peccato! Peccato! Ok, ora è tanto difficile salire, solo che quando arrivi lì è rimasto stante. Sì, ho provato a prenderla in corso, ma non ha funzionato. Io non so. Mi forse... Nicole, sei pronta? Dai! Più dura che puoi. Dai, 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 dai! Mi forse! Mi forse! Miki, più dura che puoi. Sì, puoi rifarlo. Se più dura che puoi parti così, non ce la farei mai. Stai intenuta. Intenuta. Scusa. Ascoltami me. Fai una verticale in spinta. Vai, adesso! Vai, Marti! Hai un altro tentativo. Massima tenuta. Massima tenuta. Aia! Bravissima! Siamo intorno all'alberello. Dai, Marti! Ce l'hai quasi fatta. Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Bravissima, Marti! Applauso! Com'Erica! Letizia! Brava! Brava! Dai, dai, bravissima! Dai, dai, dai! Dai, no, peccato! Emma! Brava! No! Bravissima! Ce l'hai quasi fatta! Sì! Bravissima! Ed ecco Emma! Dopo lo riprovi, Michi, eh! Eh, ma devi andare in dopo la coda! Allora, aspettate un secondo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ma guarda bene! Top! Della serie chi la dura la vince, eh! Emma non c'è l'albero! Ma io lo vedo ora! Ma l'abbiamo tolto! No, è una così larga la curva! No, è una così larga la curva! Bravissima! 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 Un'altra, eh! Chi la dura la vince! Bravissima! Ci sei, Michi? Dai, brava! Bravissima! Dai ora! Dai, Michi! Dai, Michi! Applauso! Bravissima! Speriamo che questo video vi sia piaciuto! Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale! Lasciate tanti like! E ricordatemi di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video! Ciao! 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 Buone feste! Buon Natale! Buon anno! Mangiate tanti valentoni! Buon anno!